Siamo a Monte di Procida con Floriana Schiara Morillo di Onda Civica e siamo al Parco del Benessere. Il Parco del Benessere è inspiegabilmente chiuso. Si evince dal catenaccio che vediamo alle mie spalle. Purtroppo non sappiamo il motivo per cui è stato chiuso. Sappiamo che il gestore ha riconsegnato le chiavi al Comune. Abbiamo sollecitato informazioni in merito per sapere che cosa se ne vuole fare. Siamo in attesa di indicazioni dal 10 settembre, ma purtroppo ancora tutto tace. Sappiamo bene che alla città di Monte di Procida dispiace. Molti ragazzi venivano qui per fare sport, molti ragazzi ci chiedono come mai questa struttura è chiusa e non c'è nessuno che possa prendersene cura. Ecco, questa è la cura che l'amministrazione ha per i beni comuni e purtroppo ci lascia sempre senza risposte. Un tempo questo parco era una vera eccellenza.